Ciao ragazzi, diamo un occhio insieme alla gamma K2 2020-2021, tutti gli attacchi, modello per modello, inclusa la grande novità dei clicker. Il Cinch Tristan è una bellissima trovata per la gamma femminile di K2, è un attacco rapido con un azionamento molto facile, basta infatti staccare questa leva che lo spoiler si reclina, sollevando nel contempo queste due parti della base, guardate in questo modo, per aprire ulteriormente lo spazio di ingresso dello scarpone e garantire ingresso e uscite molto facili. Le stesse basi si ritraggono quando si chiude, per un bloccaggio totale. Hardware in alluminio molto robusto, con fascione super sottile per avere un ottimo controllo, perfetto per il setup dall'all mountain al freestyle, grazie anche alla sua ammortizzazione e dalla base tripod, che garantisce un'ottima libertà di movimento.